Il vagone vuoto, ci sono 4-5 sedili non di più, arriva un papà con due figli piccoli, allora questi bambini hanno incominciato in continuazione, ininterrottamente! A un certo punto ho detto, scusi gli ho detto, io non è che voglio fare il viaggio e sfondarmi timpani per colpa dei suoi figli, ma signora sono dei bambini, ecco allora vada nella classe standard, non in questa classe executive, vada nella classe dei barboni, ho detto perché io non voglio rompermi timpani con questo pianisteo, e comunque sono già nera!